In vacanza a Napoli, il patron della Roma pallotta dice per Alisson servono 78 milioni ed è vicino al Real. Nainggolan andrà all'Inter, poi chiarisce stavo solo scherzando, ma le eccezioni eccellenti sembrano dietro l'angolo. Il Mondiale è da sempre una vetrina per i talenti internazionali che possono affermarsi definitivamente. Gli occhi saranno puntati tra gli altri su Milinkovic, Savic, Asenzio, Gabriel Gesùs, Cristian Pavone e Timo Werner. Pippo Inzaghi si è presentato oggi da nuovo allenatore del Bologna. Col tempo voglio portare la squadra in Europa League, ha raccontato, sarà importante il coinvolgimento di tutti. La società è ambiziosa. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Tmv News. Parleremo anche di Pippo Inzaghi che si è presentato da nuovo allenatore del Bologna, ma parleremo soprattutto delle dichiarazioni clamorose del patron della Roma pallotta che poi nel corso del pomeriggio ha aggiustato il tiro, ha corretto, ha rivisitato un po' le sue dichiarazioni dicendo che stava scherzando a proposito delle clamorose cessioni della Roma. Ma ne parleremo diffusamente qui in studio con Lorenzo Di Benedetto. Buonasera. Ciao Lorenzo e buonasera a tutti. Un saluto anche a Ramondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Dunque queste dichiarazioni, pallotta, dichiarazioni che sono state riportate dal sito areanapoli.it ha detto che Nainggolan andrà all'Inter, che il portiere Alisson è vicino al Real Madrid, che servono 78 milioni di euro per la sua cessione, dichiarazioni che sul momento hanno fatto scalpore, hanno fatto molto rumore come è normale in questi casi. Poi però nel corso del pomeriggio, come ricordavo poco fa, pallotta con un tweet ha voluto rettificare spiegando che stava soltanto scherzando. Prendiamo atto delle parole, diciamo così, ironiche da parte di pallotta. Resta però il fatto che queste cessioni eccellenti da parte della Roma restano sullo sfondo e restano anche abbastanza concrete. Sì, lui ha parlato di humor americano nella sua rettifica, ora io non lo conosco benissimo, lo humor americano, però le parole, le indiscrezioni, le dichiarazioni rilasciate a Napoli, a margine di una pizza, quanto pare, che stesse mangiando il presidente della Roma, vanno nella stessa direzione delle trattative che sta portando avanti la Roma. Quindi magari l'avrà detto in tono scherzoso, ironico, accelerando troppo quelle che sono trattative non in dirittura d'arrivo ma sicuramente trattative ben indirizzate. Perché la Roma ha già dato mandato agli agenti di Alisson di parlare con il Real Madrid, ad oggi non c'è ancora un accordo totale. Perché come ha detto pallotta, giustamente, la Roma valuta Alisson, il portiere brasiliano, più di 70 milioni di euro. Ad oggi non è arrivata ancora un'offerta così importante da parte del Real Madrid, però ad esempio in Spagna sono sicuri che alla fine Alisson approderà a Madrid, con Keylor Navas che resterà per fare il secondo. Lo stesso Rajana Ingolana ha già detto sì all'Oceano Spalletti, ci sono stati contatti continui negli ultimi giorni, non c'è ancora l'accordo, in questo caso tra Inter e Roma. La Roma, ricordiamo, chiede 40 milioni di euro. Per il ninja belga l'Inter non è disposta ad oggi offrirne più di 25. Insomma, le parti sono distanti, ma le trattative sono in corso e ben avviate. Quindi sicuramente saranno state dette con tono ironico, scherzoso, quelle dichiarazioni, ma corrispondono alla verità, alla realtà. Cioè una Roma che si sta ringiovenendo, ha già acquistato, ingaggiato quattro giocatori, ne arriveranno altri, ma ci saranno anche delle sessioni dolorose ed Alisson e Nainggolan sono i primi della lista. Se davvero dovessero esserci queste due sessioni eccellenti, di cui abbiamo peraltro parlato spesso nel corso delle nostre edizioni del TMV News anche nei giorni scorsi, non dico che la campagna acquisti che abbiamo fino a questo momento elogiato e esaltato a parte della Roma verrebbe azzerata, però quantomeno verrebbe rimessa abbastanza in discussione. Sì, però sono due trattative che potrebbero essere utili anche per la Roma. Mi spiego meglio. Allora, Alisson è stato pagato pochissimo dalla Roma, è stato tenuto un anno alle spalle di Scesni per farlo crescere e quest'anno è stato uno dei migliori portieri della Serie A. Stiamo parlando comunque di 80 milioni di euro. E per una società come la Roma, che non è il Real Madrid, non è il Bayern Monaco, non è il Manchester United, vendere un portiere che sicuramente ti porta punti, ma non sposta gli equilibri di una squadra, venderlo a 80 milioni di euro potrebbe essere produttivo. Faccio un esempio. Quanto abbiamo parlato di Andanovic all'Inter come uno dei portieri migliori della Serie A. Poi basta una stagione storta per far calare drasticamente il valore di un portiere. E quindi questa potrebbe essere l'estate buona per la Roma, per cedere a 80 milioni di euro. Uno che resta sicuramente uno dei migliori portieri al mondo, lo ripeto ancora una volta, però che potrebbe portare tanti altri giocatori alla Roma che potrebbero davvero spostare gli equilibri. E l'avventura di Raja Nainggolan a Roma credo sia finita da tempo, perché comunque non è andata giù alla società il capodanno sopra le righe di Nainggolan. C'è stata la multa, è stato fermato per un turno dalla società Nainggolan, che è una Roma che vuole giocatori che comunque siano all'altezza sia in campo che fuori dal campo. Nainggolan non ci può più stare. Anche per lui, 30 anni quest'anno, è chiaramente arrivata l'estate, probabilmente l'ultima estate per cedere il giocatore. E quindi penso che sì, sarebbero due cessioni che potrebbero far rivalutare quella che è stata la campagna acquisti, ma la campagna acquisti della Roma non si chiuderebbe a queste due cessioni, arriverebbero altri giocatori. Sì, bisogna vedere lo spessore dei giocatori che arriveranno. È vero che ci sono a disposizione tanti soldi per la Roma, ma poi bisogna vedere come verranno rimpiazzati questi calciatori, perché stiamo parlando di Alisson e mi fermo soltanto al portiere, che è stato uno dei punti fermi della Roma di quest'anno. Credo che difficilmente la Roma possa trovare un portiere all'altezza di Alisson, ne troverà certamente uno forte, però insomma uno che possa avere il rendimento di Alisson e che possa portare tanti punti come ne ha portati il portiere brasiliano, probabilmente sarà un po' dura. Sì, anche perché poi tra Cristante, Coric, Justin Kluivert, Marcano è arrivato a zero, ma questi tre giocatori sono costati circa 50-60 milioni di euro, quindi una parte di questo tesoretto, la Roma diciamo che l'ha già investito, sarà secondo me una Roma più giovane, una Roma che quest'estate darà il via a un nuovo ciclo, però come giustamente sottolineavi tu, chissà poi se sarà una Roma più forte, perché se vendi Nainggolan e lo sostituisci con Cristante, se vendi El Sharaoui magari e lo sostituisci con Justin Kluivert, sicuramente hai dei giocatori che in prospettiva possono rivelarsi e diventare più forti di quelli attuali, però insomma nell'immediato sicuramente non hai le stesse certezze e Alisson per distacco è stato il miglior portiere dell'ultima Serie A, quindi sicuramente la Roma lo sostituirà con un profilo all'altezza, ma è chiaro che non trovi un altro Alisson, se ci punta il Real Madrid, se il Real Madrid è pronta a investire 70-80 milioni di euro per un portiere del genere, vuol dire che è ben conscio del fatto che in questo momento è tra i migliori in Europa, tra l'altro è anche un portiere relativamente giovane, e quindi sicuramente la Roma poi si affiderà a un altro portiere interessante, ma non mai all'altezza di Alisson, anche perché di fatto non ce ne sono, sono pochissimi, c'è De Gea, c'è Courtois, ma sono portieri già fuori budget per questa Roma, quindi è un mercato in evoluzione, adesso è difficile dare giudizi sul mercato della Roma, perché sappiamo che Monce è abituato sempre a muoversi tanto e lo sta facendo anche nella capitale, certo se davvero dovessero andare via, credo che nell'immediato la Roma non sarà così competitiva, almeno per la lotta a Scudetto, anche perché oggi Allegri ha annoverato anche la Roma, tra le pretendenti per lo Scudetto, però se perdi alcune delle certezze più importanti, nell'immediato non credo questa squadra possa essere immediatamente competitiva per il primo posto. Roma che aveva molto probabilmente messo in preventivo la cessione di Nainggolan, però cedendolo all'Inter rischia di rinforzare una diretta concorrente per le primissime posizioni, oltretutto con Spalletti sappiamo bene come Nainggolan si sia esaltato, Spalletti ha trovato la collocazione migliore per questo giocatore, per affinarlo ulteriormente. Sicuramente non è positivo per la Roma cedere Nainggolan in Italia, nelle ultime ore si è parlato anche dell'Atletico Madrid sul Belga, hai detto giustamente Lorenzo che si è esaltato con Spalletti, a mio avviso si esalterebbe anche con Simeone, quindi magari una telefonata di Simeone a Nainggolan potrebbe far cambiare le cose, potrebbe cambiare le carte in tavola, chiaramente cedendo un giocatore del genere ad una squadra che, ha lottato per la Champions tutto l'anno insieme alla Roma, si rinforza una diretta concorrente e quindi io credo che fino all'ultimo la Roma proverà a cedere Nainggolan all'estero, poi è chiaro, lo sappiamo e l'abbiamo detto tantissime volte, alla fine sono quasi sempre i giocatori a decidere, quindi se Nainggolan ha deciso di andare all'Inter e se l'Inter presenterà un'offerta all'altezza, è chiaro che Nainggolan andrà in nera azzurro. Voltiamo pagina adesso e parliamo anche dei talenti che sono pronti a sbocciare al Mondiale, in ogni edizione della Coppa del Mondo c'è sempre qualche giocatore giovane, qualche giocatore interessante che riesce ad affermarsi definitivamente attraverso questa vetrina e in questo caso, in questa edizione del Mondiale, gli occhi saranno puntati su tanti giocatori, tra questi Milinkovic, Savic, Gabriel Gesùs, tanto per fare proprio un paio di nomi di giocatori, Raimondo De Magistris su chi punti, a parte questi due giocatori che ho citato? Sì, Gabriel Gesùs con Neymar, di fatto sarà chiamato a trascinare il Brasile che è per tutti il grande favorito per la vittoria finale, forse la squadra più completa e anche coesa tra le big. Aggiungerei Kylian Mbappé, uno dei più giovani di questo Mondiale, perché poi non dimentichiamolo mai, ma è un classe 98, un giocatore di un talento smisurato, secondo me lui ha tutto per raccogliere l'eredità di Thierry Henry, in termini di caratteristiche, un giocatore destinato a trascinare questa Francia. Vedo un po' in difficoltà la Spagna, almeno alla vigilia il cambio di commissario tecnico sicuramente influirà, ma questa è una squadra che mi sembra un po' a fine ciclo, poi magari ci stupirà, però vedremo. È l'ultimo grande Mondiale per Cristiano Ronaldo, che ha 33 anni, ha vinto l'Europeo con il suo Portogale, adesso è chiamato a bissare con un'impresa ancora più clamorosa, evidentemente sarebbe la vittoria di questo Mondiale. E poi mi aspetto una Polonia rivelazione, secondo me Zielinski può essere una rivelazione di questo Mondiale, perché è un giocatore che tecnicamente non si discute, la Polonia è un ottimo gruppo, trascinata da un bomber come Lewandowski, che è stato il migliore nelle qualificazioni europee, secondo me può fare molto molto bene. E poi sarà il Mondiale del Belgio, perché questa è una squadra che è finalmente maturata, adesso non sono più dei giovani di belle speranze, sono dei grandi campioni, quelli che fanno parte della rosa belga, quindi mi aspetto un Hazard che può finalmente diventare uno dei leader di questo Mondiale, e Lukaku uno dei trascinatori di questa nazionale. C'è l'Argentina, di Leo Messi, anche per lui grande mondiale. Insomma ci aspettiamo davvero tanto una Francia che forse per talento e per giovani talenti è la nazionale più forte di questa Kermessa, è anche la nazionale più giovane, mentre l'Argentina è la nazionale più anziana di questo Mondiale, e poi la Germania che è sempre lì, perché ne parliamo sempre poco, però quando si parla di mondiale la Germania c'è, anche se con un gruppo profondamente rinnovato rispetto a quella che ha vinto 4 anni fa la Coppa del Mondo. Ci sono ovviamente tantissimi giocatori da tenere sotto osservazione, un altro nome che possiamo fare è quello di Asensio, della Spagna. Sì, ha fatto benissimo con il Real Madrid nelle ultime stagioni, è un giocatore che dobbiamo capire quanto spazio avrà, ma anche se non partirà da titolare, perché di fatto non è mai partito titolare nel Real Madrid, ha dimostrato di saper spaccare le partite. Lo sa bene la Juventus, sia per la finale di Cardiff che anche per le due gare di quest'anno, ma è un giocatore che sicuramente farà parlare di sé. Tra le rivelazioni potrebbe essere anche lui una delle rivelazioni con Raimondo, che giustamente diceva che la Spagna sembra essere a fine ciclo. Il nuovo ciclo ha il nome di Asensio e quindi sicuramente dovrà puntare anche su questi giocatori. Bisogna capire in quale modo la Spagna reagirà al caos incredibile che è successo ieri. Le opzioni a mio avviso sono due, o davvero esce al girone la Spagna, oppure si compatta tutto il gruppo e allora riesce ad arrivare fino in fondo, perché comunque stiamo parlando di una nazionale che, e lo sappiamo bene, ha i noi, perché comunque l'Italia non è al mondiale anche a causa della forza della Spagna, è un gruppo che comunque sa come si vincono le competizioni e sa come fare ad alzare la Coppa del Mondo. Sentiamo invece qual è il miglior portiere del mondiale. Lo abbiamo chiesto a Giovanni Galli, con il quale abbiamo parlato anche proprio della Coppa del Mondo in generale. Ci sono delle squadre che mi piacciono sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della mentalità, però se mi devi dire qual è la favorita in questo momento, ti dico la Spagna, è la squadra che più mi intriga e dico stiamo attenti, è la Croazia. Iero è stato un grande rivale, perché era proprio nel periodo in cui ci scontravamo con Real Madrid, è sempre stato un giocatore elegante, un giocatore molto intelligente, e solitamente questi giocatori quando poi vestono i panni dell'allenatore solitamente riescono a dare qualcosa alla squadra. Adesso vediamo, a parte che lì sai, è un giocatore talmente conosciuto, talmente noto, che non credo che faccia fatica ad entrare nei meccanismi di una squadra, ma soprattutto nel rispetto che ha verso certi giocatori e che deve pretendere da certi giocatori. In partenza è il miglior portiere del mondiale, chi è ad oggi? È uno che manca purtroppo, che è Oblak, manca però vediamo, adesso sono curioso di vedere all'opera tanti portieri che magari non riusciamo a seguire direttamente del Sud America, sai questi portieri un po' a volte anche estrosi negli atteggiamenti, nei comportamenti, non lo so, sinceramente sono curioso perché i primi tre probabilmente non essendoci daranno spazio agli altri per capire che cosa sarà il futuro. Oblak, miglior portiere in assoluto secondo Giovanni Galli, anche se non ci sarà questi campionati del mondo, in 15 secondi, sei d'accordo Raimondo? Sì, stagione alla mano è stato il migliore nell'ultimo campionato spagnolo, ma non solo, l'abbiamo scritto anche diffusamente proprio su tutto il mercato web, ma ci sono comunque i grandissimi portieri, De Gea è uno dei migliori, abbiamo parlato a lungo di Alisson, che secondo me in questo momento non solo in Italia, ma al mondo è uno dei migliori portieri, insomma sicuramente mancano alcuni protagonisti, Buffon, altro grande portiere, manca Oblak, ma ce ne sono altri altrettanto significativi. Sui mondiali sentiamo anche adesso le considerazioni di Fabio Galante, che abbiamo avvicinato a Pitti, la segna internazionale di moda che si sta tenendo a Firenze, dichiarazioni che sono state raccolte da RMC Sport. Guarda, purtroppo come si dice, non essendoci l'Italia, mi resta anche difficile fare il tifo per un'altra nazione, io insomma penso che possa vincere una sudamericana, quindi dico o Brasile o Argentina, se poi dovessi dire un'europea c'è il problema che la Spagna ha cambiato allenatore all'ultimo, ma comunque adesso è sempre la favorita a livello di una squadra europea. Voltiamo ancora a pagina, adesso ci occupiamo delle parole di Pippo Inzaghi che si è presentato oggi da nuovo allenatore del Bologna e parlando in conferenza stampa ha sottolineato anche come tra le sue speranze, tra i suoi sogni ci sia quello di portare col tempo il Bologna in Europa League e credo che possa essere un traguardo raggiungibile da parte di Bologna se non subito, comunque attraverso un progetto ben definito e sarebbe anche il giusto coronamento per il Bologna vista la tradizione di questa società gloriosa. Ha parlato tanto dei tifosi, Filippo Inzaghi ha detto che comunque uno dei suoi primi obiettivi sarà quello di riportare l'entusiasmo, vuole creare una grande famiglia a Bologna con i tifosi, con la società. Ciò che è mancato negli ultimi anni proprio a Bologna è chiaro, Inzaghi ha parlato in futuro, vorrò riportare la squadra in Europa League perché ha ben chiaro quale sarà l'obiettivo principale, primario, ovvero quello di fare 40 punti, il prima possibile. Una volta superata questa soglia, la soglia salvezza e quindi riportata la tranquillità, allora sognare addirittura l'Europa League. Comunque Inzaghi da calciatore è sempre stato un personaggio ambizioso, lo è anche da allenatore, ha fatto benissimo a Venezia perché comunque è arrivato vicino, non vicinissimo, ma vicino alla promozione in Serie A e quindi fa bene ad essere ambizioso, Filippo Inzaghi. Ce l'hai con... bisogna riprendere l'abitudine un po'. Certo, ci si può ingannare tra Pippo e Simone Inzaghi, ma sentiamo ancora Pippo Inzaghi adesso in queste dichiarazioni raccolte da RMC Sport, la conferenza stampa, una parte della conferenza stampa di oggi di Pippo Inzaghi. Penso che l'unica cosa che non mi manca è il fuoco, nel resto non so se capisco così, però sul fuoco da quando ho sempre giocato per vincere e voglio sempre il massimo, per cui ho già detto, per me Bologna, io spero di restare qua, se mi facevano dieci anni firmavo, io vedo Bologna come una cosa stupenda che mi è successa, desideravo questa società, sotto sotto avevo questa speranza di venire a Bologna sinceramente, per tanti motivi, perché secondo me si può fare qualcosa di importante, ringrazio i tifosi perché ieri sono venuti a parlarmi e ci siamo trovati subito in sintonia, tutti vogliamo la stessa cosa, penso anche voi, il bene del Bologna, perché tutti siamo felici se il Bologna va bene, cercherò di ottenere il massimo da quello che mi sarà messo a disposizione, cercherò di far rendere i miei giocatori come ho fatto in questi anni al meglio delle loro possibilità, cercherò di essere il più vero possibile, perché secondo me un allenatore deve cercare di essere credibile, farsi amare da tutti sarà dura, però chi non pedala, chi non si allena bene, chi non pensa che Bologna sia qualcosa di magico, con me non giocherà, per cui lo capirà subito, ero così da giocatore, sono così da allenatore, perché per ottenere risultati secondo me bisogna essere su questa strada. Molto carico dunque Pippo Inzaghi, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News, se non mi resta che ringraziare Raimondo dei Magistris e Lorenzo Di Penedetto, siamo così, ai saluti, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.